Amici del T-Gym siamo ospiti della Ferrari Gym, qui a Pirri in via Montecassino e qui come Davide Roda. Ciao Davide! Ciao Roby, ciao ragazzi del T-Gym! Davide, di cosa ti occupi qui alla Ferrari Gym? Qua alla Ferrari Gym mi occupo della preparazione fisica, della preparazione atletica e della preparazione agonistica alla kickboxing, di cui sono il responsabile del settore combat femminile. La preparazione atletica si può fare a qualunque età? Assolutamente sì, noi consigliamo la preparazione fisica e la preparazione atletica a qualsiasi fascia di età, a partire dal bambino, al giovane, all'adulto e all'amatore o all'over anche. Siete una realtà presente da tanti anni, avete inglobato nuove discipline, c'è qualcosa di cui vuoi parlarci che oggi noi non abbiamo visto? Sì, diciamo che nella Ferrari Gym abbiamo diverse discipline, per ennecarne qualcuna possiamo passare dal power yoga, al pilates, al social fitness, al cross training, diverse discipline frequentiamo, diciamo, facciamo qua in palestra. Hai accenato prima il combat femminile, per quest'anno nuovo che verrà avete delle programmazioni importanti? Sì, abbiamo la stagione diciamo 2016-2017, è già iniziata con la prima qualificazione dei campionati italiani, adesso puntiamo alla seconda fase, poi ci sarà una terza per poi puntare un po' più in alto, che è il campionato italiano. Poi a seguire avremo anche dei ragazzi che partiranno a Dublino per quanto riguarda la Coppa del Mondo, una competizione molto agguerrita. Non ti ringraziamo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ti salutiamo. Grazie ragazzi, a presto. Questo è il TGym e io sono Roberta.